Ciao a tutti e ben ritrovati per un nuovo video nell'angolo verde di Angela. Quest'oggi continueremo con quello che abbiamo cominciato col video precedente ossia il travaso delle nostre piante o in questo caso delle nostre piante aromatiche. Qui con me ho una pianta di camonilla, della lavanda, della maggiorana e una pianta di tè verde. La pianta di tè verde devo essere sincera io non l'avevo mai vista e quando nel negozio in genere compro le mie piantine l'ho notata l'ho comprata immediatamente perché mi piace tantissimo soprattutto mi piace il profumo che fa, ricorda molto la menta. Adesso continueremo a rinvasare le nostre piantine che come vedete si trovano in vasetti molto piccoli e hanno bisogno di conseguenza il rinvaso in vasi più grandi per riuscire in primavera a poter sviluppare riguagliosamente. Cominciamo con il rinvaso della pianta di tè verde. Come precedentemente nel video vi ho spiegato dobbiamo mettere in un vaso più grande del terriccio. rinviamo con delicatezza, eliminiamo tutte le facce che comunque non serviranno, ripugniamola nel nostro vaso. A questo punto mettiamo la nostra terra. Continuiamo con quest'altra pianta. Questa è una pianta di maggiorana. Come vedete ha molti rami ormai set. Prima di rinvasarla dobbiamo eliminare questi rami che sono secchi e che sono anche brutti da vedere. quindi con delicatezza e una forbice. Anche questa potete trovarla nei negozi specializzati di giardinaggio. Rimuoviamo i rami secchi. A questo punto come al solito rileviamo la nostra piantina. e ripugniamola nel vaso più grande. Aggiungiamo il terriccio. Continuiamo con la pianta della camomilla. Devo essere sincera non avevo mai visto la pianta della camomilla. Sono curiosa di vedere i suoi fiori dal vivo. Che magari tutti siamo abituati a vedere i fiori della camomilla o mai secchi. Come dicevo prima, se ci sono dei rami secchi rimuoviamoli. Dopodiché come al solito mettiamola nel vaso più grande. Adesso poniamo in un vaso dei rami di lavanda. Questa qua vedrete che in primavera riuscirà ad attecchire e a fare le radici. E di conseguenza avremo nuove piante di lavanda da poter piantare nel nostro giardino. Oppure mettere in vasi più grandi e per mettere durante il periodo primaverile e il periodo estivo, per mettere alla lavanda di fiorire. Diminuiamo se ci sono le fioriture dell'anno precedente, i rami secchi, dopo un cucchiere. Sistemiamo sulla terra, avendo cura che il ramo della lavanda sia ben conficcato sul terreccio. Come al solito aggiungiamo il terreccio e continuiamo fino a che sarà coperto. Questo è pronto e per ultimo faremo il vaso di questa pianta. Questa qua è dell'erba cipollina, spero riusciate a vedere. Con il freddo che c'è stato in questi giorni e con la neve soprattutto, la pianta che era messa fuori si è bruciata. Però come vedete ha ancora i germogli verdi. Io allora ho tolto la parte secca e la rinvaso in un vaso più grande. Ecco la stessa tecnica che ho usato per le altre piantiniche. Anche se potete notare che ha pochissime parti di verde, lei riprenderà il suo sviluppo una volta che sarà riposta in un ambiente un po' più temperato. E di conseguenza poi in primavera darà il suo massimo splendore. Per questo poi magari in un video successivo vi farò vedere lo sviluppo che hanno avuto tutte le piante che noi abbiamo rinvasato. Come abbiamo fatto nel precedente video, con il nostro concime, nella dose in questo caso di un litro, perché il mio terriccio è molto umido, in quanto si trovava all'esterno e di conseguenza devo usare poca acqua. Per cui in un litro io metterò mezzo, mezzurino. E il bagno, tutte le mie piante. Riponiamo le nostre piante, ormai rinvasate, in un luogo che sia a riparo da fonti di calore, quindi termosifoni, ma anche dal freddo e delle eventuali gelate che ci possano essere fuori. E nel mio caso io riporrò le mie piante in una serra, perché io ho una piccola serra che poi magari più in là vi farò vedere. E lì magari hanno un microclima leggermente migliore di quello che possono avere all'esterno. Se non avete una serra, ponete le vostre piantine all'interno di un balcone o se avete una veranda, riponeteli nella veranda. E controllandole periodicamente, in modo che vi renderete conto se le piante hanno bisogno di acqua o di piccole cure. Con questo io anche per oggi ho finito. Vi rimando al prossimo video, sempre con l'angolo verde di Angela, in cui impareremo piccole nozioni che ci possono aiutare a migliorare le nostre piantine o magari a coltivarci da noi le piantine. Se il video lo avete trovato interessante, come sempre, vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al mio canale e a condividerlo con i vostri amici. Grazie ancora, vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto con l'angelo e l'angolo verde.